Ciao ragazzi, qui il caldo continua imperterrito ed è insopportabile Questa ventola maledetta non fa aria come è sempre E faccio questo vlog semplicemente per pochi motivi Allora, intanto ho creato un altro canale che in realtà non ho creato ma già avevo L'ho semplicemente rinominato Non trovo una melodia, quindi lì adesso sono tutte le mie canzoni Se volete visitarlo, iscrivetevi, mi farebbe molto molto piacere avere anche un vostro parere Ho aggiunto anche il vlog, cioè pure quello è una cosa che già avevo Semplicemente adesso la sto iniziando a usare Quindi metterò i miei pensieri, quello che mi passa per la testa lì E dategli un'occhiata, sta sempre nelle informazioni del canale Ma comunque nelle informazioni di ogni video E poi vorrei rispondere a chi mi ha chiesto dell'acquario In effetti ho notato che nei miei video, nel vlog oppure recensioni si vede l'acquario Posso dire tranquillamente che è un acquario di 60 litri Che contiene un tritone, più nello specifico si chiama pachitriton Che è un animaletto simpaticissimo, veramente carino Che ho tolto dalle griffi di un negozio che voleva lasciarlo morire perché nessuno lo acquistava Quindi l'ho preso per pochissimo, tipo 8 euro E gli ho iniziato a dare una sistemazione L'acquario contiene un filtro da 100 litri, se non sbaglio Per acquari da 100 litri Gli ho fatto un setup, ci sono 3 pesci pulitori Basta Ok, questo vlog è abbastanza una cagata Però, beh, avevo voglia di farlo Questa telecamera, fra un po' se ne andrà da casa mia Per fortuna la ridarò a chi me l'ha prestata E gli chiederò di non prestarmi più niente Sono molto felice che abbiate apprezzato anche l'ultimo corto non senso E molto probabilmente sto per acquistare la telecamera Una Panasonic SD90 Che ho visto essere molto, molto, molto prestante Molto buona per quello che devo fare Ha un grandangolo di 28 mm, se non sbaglio Quindi indoor negli ambienti stretti È molto, molto comoda Ha uno zoom pazzesco Registro in HD Ha un'entrata microfonica, cosa da non sottovalutare E basta, ciao